Cari amici ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vitis, Italia unita nel segno dell'anticiclone e del tempo tranquillo e del tempo stabile con pochi disturbi, insomma anche sul nostro territorio avremo e più in generale sul Mediterraneo questo possente anticiclone e quindi tempo tranquillo con temperature che il freddo si sta sempre più allontanando verso est e da ovest è già giunta e avanza ancora verso ovest, da ovest verso est, aria un po' più mite che sta facendo impennare le temperature soprattutto in quota a partire ai settori più occidentali però cosa accadrà avremo un aumento delle temperature massime il freddo lo ritroveremo però sempre dopo il tramonto quindi di notte e al primo mattino però godiamoci queste giornate all'insegna dell'anticiclone all'insegna del bel tempo arrivederci